Diego Maranghi e Leonardo Piccinini benvenuti all'almaracco di bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non solo una produzione classica hd sky canale 136 in collaborazione con intesa san paolo al manacco di bellezza 11 agosto leonardo piccinini piero maranghi la ricorrenza di oggi è poco più che un pretesto per parlare di un argomento decisamente più esteso potremmo definirla l'apertura di una partita lunga un secolo tra l'uomo e la più famosa cima della spettacolare catena che ha il nome di Jungfrau Fischhorn nell'Oberland del Bernese. sono quei bei cagnoni i cagnoni i pastori bernesi la salsa bernese bravo bravo e poi ci sono alcune tardone del bernese ma questa è un'altra storia col vestito tipico certo l'11 agosto oggi del 1858 avviene la prima ascensione alla vetta del l'aiger l'aiger 3967 metri tu l'hai scalato in parte no però ho subito un influsso fortissimo genitoriale perché non so perché mio padre aveva per l'aiger una una passione sfrenata la parete nord dell'aiger è un grande mito dell'alpinismo allora chi ci riesce c'è una piccola squadra composta da un alpinista irlandese e come abbiamo visto gli irlandesi sono molto capabili anche contro ogni logica poi si fanno di whisky quindi Charles Barrington che è accompagnato da due guide locali Peter Boren e Christian Almer su questa spedizione ci limitiamo giusto a poche battute sebbene Boren e Almer abbiano inciso nella roccia delle alpi bernesi i loro nomi con una serie di memorabili imprese alpinistiche e a questa figura improbabile dirgli irlandese di Irish Barrington che va riconosciuto il merito dell'impresa dell'aiger infatti lui ad aver caldeggiato la spedizione sebbene fosse all'epoca un 24enne con poca esperienza di montagna che chi era Barrington un commerciante un commerciante faceva il commerciante stava bene nella zona di Brahe sulla costa orientale dell'irlanda ed è un fatto curioso che per Barrington l'impresa sull'aiger è un ripiego è un ripiego cioè aveva infatti dovuto rinunciare a mettersi in viaggio verso Zermatt per tentare il matero il Cervino il Cervino per insufficienza di pecunia si dice ripieghiamo e andiamo sull'aiger anche a me Leonardo succedono queste cose cioè la mattina noi ci svegliamo per venire a registrare all'almanacco poi capita che lui vada a fare un colpo di stato in Nord Africa si e io per esempio con quella mimetica quella quella chiara quella chiara da te piace la visione ho capito che a te piace quella chiara e gli occhiali a goccia Raiba Raiba quelli di Previty si va bene ci vuole quella e io non posso dire che vado a fare e poi il cappello deve avere la decorazione dorata sulla visiera avete capito eh allora la spedizione di Barrington parte alle 3 di notte dell'11 agosto e giunge in vetta nel pomeriggio dello stesso giorno negli anni successivi noi sappiamo che Barrington non tornerà mai più sulle Alpi basta sulle Alpi e il suo nome a parte diciamo qualche placca commemorativa le pendici dell'aiger sarà ricordato per la no è vero per la vittoria della prima edizione dell'Irish Grand National cioè un torneo di equitazione era uno che passava era uno che aveva da un passatempo all'altro fatto quindi il dovuto omaggio all'impresa di Mr. Barrington parliamo della montagna perché nel 1858 la partita con l'aiger è solo cominciata la prima scalata viene infatti sul versante occidentale che è considerato all'epoca l'unico praticabile per la conquista degli altri versanti si dovranno attendere svariati anni 1871 la prima ascesa sulla cresta sud ovest a opera di una coppia di alpinisti statunitensi sempre guidati dai due Boren e Almer gli anglosassoni arrivavano prendevano Boren e Almer che avevano un monopolio che non si capisce perché ci andassero questi qui dovevano mandarci loro e basta eh ma perché ci voleva la pecunia eh sì nel 1876 è la volta della cresta sud nel 1890 invece c'è la prima salita invernale il film sette anni in tibet introduce un personaggio il tibet non è in svizzera il l'aiger non è in tibet allora la parete nord diciamolo subito fa storia a sé ed è una storia costellata di tragedie perché perché fino ai primi decenni del novecento la parete nord dell'aiger è bollata come impossibile impraticabile a causa della conformazione naturale del fronte perché c'è un elevato grado di verticalità verticalità non dobbiamo essere orizzontali leonardo dobbiamo essere verticali e soprattutto la difficoltà no leonardo perché io penso all'orizzontalità della bara ne parlavo di noi due vabbè questa è un'altra cosa e a questo si aggiunge un altissimo rischio di frane perché soprattutto durante la stagione estiva a causa del disgelo diurno del ghiacciaio e mamma mia e se entro la fine degli anni venti un po tutti i versanti dell'aiger sono diventati di fatto accessibili bisogna attendere il 1934 per il primo tentativo della parete nord un tentativo che fallisce perché tre alpinisti tedeschi che arrivano a 2900 metri sono costretti a rinunciare va peggio a una spedizione del 1935 viene sorpresa dal maltempo a quota 3300 i due membri della cordata trovano la morte insomma è un cimitero nel 36 ci arrivano ancora più vicini allora sulla parete si incontrano due cordate sono austriaci e tedeschi due anni dopo sarebbero stati solo tedeschi perché sarebbe stato l'angelo che decidono di fatto di unirsi e quindi andreas interstoise questi cognomi da slalom gigante riesce da super g riesce a oltrepassare uno dei valichi più complessi della via che è un traverso che oggi porta il suo nome giustamente attenzione se voi scoprite una nuova strada un nuovo percorso sulle montagne questo un giorno potrebbe esservi è vero io posso posso dire una cosa che non ho mai annunciato che per esempio a ponna c'è il percorso c'è cunicolo maranghi a ponna perché l'ho scoperto io senti successivamente villi angerer che fa parte del gruppo austriaco resta ferito alla testa perché piove una scarica di pietre la spedizione continuerà fino al quarto giorno di ascesa quando le condizioni meteorologiche e le condizioni di salute del povero angerer l'austriaco costringono il gruppo a ritirarsi per una via diretta ahimè molto esposta al rischio di valanghe ne cade una che travolge gli alpinisti a pochi metri dal termine della discesa e nessuno dei quattro si salva l'ultimo è il 23enne toni kurz che dopo estenuanti tentativi di far passare il nodo tra due cime attraverso un moschettone con i soccorritori pensate a meno di 10 metri da lui muore per sfinimento sospeso nell'aria questo deve farci riflettere su quanto l'amore per la montagna possa spingere a imprese al di là dell'umano cioè la sfida dell'inaudito 20 giugno 38 arriva un'altra cordata mista austro tedesca che tenta nuovamente l'ascesa è documentata giorno per giorno questa impresa ci limitiamo a dire che la scalata 5 5 infiniti giorni c'è una tormenta c'è una valanga ci sono ben due alpinisti che si infortunano e infine da una discesa costellata di errori di percorso vedremo i membri costretti a tornare più volte sui loro passi alle 15 30 il 24 luglio del 1938 il gruppo finalmente giunge in venta inutile dire che l'impresa austro tedesca che adesso è solo tedesca è praticamente solo tedesca siamo quattro mesi dopo l'anschluss ha un'enorme risonanza sui media nazisti come dire vedete abbiamo fatto bene a fare l'anschluss perché scaliamo l'aiger ci siamo messi insieme ce l'abbiamo fatta e naturalmente il baffino maledetto li riceve di monta sulla sulla spedizione ma vuol venire anche lei la prossima volta no 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 lui va solo sulle alpi bavarese è solo su uber salzberg senti leonardo e in questa spedizione appunto abbiamo visto prima sette anni in tibet c'è anche henrik harer che è l'autore del memoriale sette anni in tibet che poi diventa arcinotto grazie allo sdolcinato brett pitt ecco sebbene la parete nord dell'aiger sia di fatto affrontabile rimane un'impresa alpinistica provateci voi altissimo rischio e negli anni 40 e 50 le spedizioni di successo si alternano a fallimenti a volte davvero tragici beh quella dal punto di vista mediatico anche perché ci riguarda più più clamorosa è quella del 1957 i protagonisti sono due alpinisti di lucca claudio corti e stefano longhi con altri due tedeschi e l'ascesa è sfortunatissima e richiede l'intervento di una squadra di soccorso che presente tra gli altri vede anche riccardo cassina l'alpinista leggendario alpinista partigiano che riesce a trarre in salvo corti rimasto pensate bloccato su una sporgenza rocciosa dopo una caduta di 20 metri e raggiunto attraverso un sistema complicatissimo di carrucole non ce la fa il povero longhi il cui colpo rimane in parete per due anni prima di essere recuperato nel frattempo si sono perse le tracce dei due tedeschi i loro corpi saranno ritrovati solo nel 61 certamente erano caduti durante la discesa dopo aver raggiunto la venta pensa che cosa mostruosa il ritrovamento mette fine tra l'altro a quattro anni di calunnie contro corti che era stato accusato di aver ucciso i due alpinisti per impossessarsi della loro tenda se ancora quindi non fosse chiaro quanto impervia sia la conquista di questa parete chiudiamo ricordando che nel 63 un asso assoluto e idolo come walter bonatti è costretto ad abbandonare il tentativo della prima ascesa in solitaria per una frattura alla costola a seguito di una frana quando gli chiedono perché abbia rinunciato all'impresa la risposta è nessuna montagna vale la vita grandissimo walter bonatti e noi ci congediamo ascoltandolo l'alpinismo non è scalare le montagne per raggiungere un punto inesplorato si l'alpinismo ha incominciato così l'alpinismo esplorativo ma l'alpinismo classico come lo si intende oggi l'alpinismo è in fondo con le sue tecniche con le sue difficoltà è una condizione che lo scalatore si pone per raggiungere per conquistare se stesso attraverso la conquista materiale della la montagna los poesias los poetas conocidos son los poetas muertos no quiero hacerle una pregunta indiscreta pero si le preguntara cuáles son los poetas italianos usted conoce muchos poetas italianos pero no conoce es es muy difícil conocer los poetas vivos buon compleanno sono 92 lui guarda l'almanaco insieme al re a volte quale re re tutte due tutte due cioè lo guarda quando in marocco con re del marocco e quando in spagna con re di spagna si ma re di spagna quello non più re no quello nuovo quello là che aveva illuso il mondo poi in un attimo e franato come sull'aiger va bene 92 anni allo scrittore drammaturgo poeta regista fernando arabal nato a melia nel marocco spagnolo l'11 agosto del 1932 è un vero testimone del 900 europeo come ce ne sono purtroppo rimasti pochi il novecento come secolo delle tragedie e delle dittature però diciamolo il novecento è stato anche un secolo di democrazie nel 75 quando morì francisco franco il suo nome rientrava tra i cinque spagnoli più pericolosi del regime assieme all'appasionaria dolores i barruri al segretario del partito comunista santiago cariglio al generale repubblicano enrique lister e al comandante militare il campesigno quindi è l'unico è l'unico artista in una congrega di politici o militari questo a sottolineare la forza un artista davvero poliedrico lui ha pubblicato libri sulla poesia ha scritto 14 romanzi ha scritto pensate quattro libretti di opera e ha diretto sette lungometraggi sette film quindi è un artista molto difficile certamente da definire permettetemi perciò di usare la tre cani che di lui scrive leonardo ha riversato sulla scena e sullo schermo una figuratività grottesca e fantasmatica fatta di visioni per vasi di deformazioni allegoriche ricollegate sia al gusto del tardo surrealismo sia all'immaginario corrusco e al senso tragico della tradizione culturale spagnola è vivo e lotta insieme a noi l'episodio cardine della sua biografia riguarda il padre fernando arabal ruiz che era ufficiale nell'esercito repubblicano e all'alba del 18 luglio del 1936 il signor viene arrestato imprigionato condannato prima a morte e poi a 30 anni di reclusione nel 41 lo chiudono in un ospedale psichiatrico il 28 gennaio del 1942 evade in pigiama e senza documenti e scappa per le campagne innevate della castiglia e di lui non si è più saputo nulla sparito sommerso inabissato questa misteriosa scomparsa e le supposizioni sul ruolo giocato dalla madre che era contraria alle idee del marito indubbiamente sono alla base di un trauma pazzesco che colpisce il nostro fernando arabal e lui proietterà lungo tutte le sue opere teatrali le sue opere poetiche letterarie cinematografiche questa vicenda sono il filo del suo labirinto il giovane arabal vince un concorso per bambini super dotati evita l'accademia militare studia diritto e nei primi anni 50 lavora alle prime sue opere teatrali nel 55 si ammala di tubercolosi mentre si trova a parigi ed è costretto a restare lì l'avrebbe definita una fortuna disgraziata una allora arriva bal babilonia il suo primo romanzo 1959 il calvario dell'infanzia spagnola del piccolo fando ossessionata da questa madre oppressiva e da una zia ninfomane il libro 13 anni dopo diventa un film viva la muerte che ancora oggi rimane sgradevole nella sua crudezza perché gli elementi autobiografici e i riferimenti al franchismo vengono trasfigurati in questa orgia visionaria scatologica iconoclasta da altra parte a darrabal non interessava essere gradevole nel 62 con due amici del calibro del regista psicomago alejandro jodorowsky e del disegnatore roland topor fonda la sua piccola personale avanguardia il movement panic un collettivo artistico dedico a caotiche performance teatrali progettate per essere scioccanti violente come dice lui per liberare le energie distruttive in cerca di pace e bellezza sono i genitori della fura del spouse possiamo dirlo gli artisti panici fanno arte panica dal dio pan un'arte che abbraccia l'intero essere umano e facciamo un esempio nel 67 lui è in spagna a promuovere la sua unica opera che viene tradotta in spagnolo durante una presentazione in libreria a mursia un uomo gli chiede una dedica panica sul testo e lui scrive me cago in dios en la patria y en todolo de mas che non stiamo a tradurre perché avete capito allora il giorno dopo arriva l'arresto per blasfemia e calunnia e per la sua liberazione pensate i nomi che si mobilitano arrivano beckett ionesco e tutto il mondo intellettuale franco iberico lui in carcere resterà 24 lunghissimi giorni il giovane fando che è l'alter ego di arabal è anche il protagonista del paese incantato primo lungometraggio di jodorowsky che poi girerà i più celebri e il topo la montagna sacra poi c'è un fitto elenco di drammi e lavori teatrali bestialità erotica e il cielo e la mierda e lui pubblica anche queste poesie pubblica dei romanzi per esempio la figlia di king kong e dei saggi una lettera a stalin c'è una lettera a franco c'è una lettera a fidel castro e c'è il dizionario panico del 2008 e poi ci sono addirittura i libri sugli scacchi come bobby fisher il re maledetto che è una sua opera ha poi diretto altri film dagli anni gloriosi citiamo andrò come un cavallo pazzo che è un attacco alla civiltà dei consumi al buon gusto come si usava negli anni settanta e l'albero di guernì che è girato a matera con mariangela melato bruna tra l'altro che passa a mezzo film a cavallo di un asino io non l'ho mai visto però leggo momenti di impatto ci sono baci gay appassionati mentre attorno le baionette reagiscono c'è goia che si serve di un bicchiere di un bicchiere di brandy e ci sono le suore alle prese con dei cristi in croce beh avete forse capito bisogna vedere se ha retto il tempo chiudiamo di nuovo questa è una citazione dalla treccani il mondo di arrabal non può essere assimilato solo a una variante farraginosa dell'estetica surrealista perché gli incubi di questo scrittore cineasta e il suo modo forsennato e razionale al tempo stesso di comporre assieme immagini visionarie rimandano piuttosto all'onnipotenza inventiva del mondo infantile e a umori selvaggi e barocchi selvaggio e barocco bello lo ricordiamo tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su spotify su apple podcast e sul canale youtube di intesa san paolo on air naturalmente cercando al manaco di bellezza 2024 leonardo allarme incendio abbandonare il locale è sempre acceso anche se la sua collocazione nella messaggistica di classica hd non è ancora chiarissima secondo me è come la spia del motore che uno continua ad andare avanti tenendola accesa e fingendo che la cosa non sia grave bravo poi a un certo punto ti si presenta il conto è stato anche meccanico leonardo è interessante questo non lo sapete a me piaceva sai quel mega cric che c'è nelle officine che si mette sotto beh meraviglioso quello che alza sì sì quello bellissimo mamma mia senti leonardo se ci va male con l'almanaco apriamo un'officina apriamo l'officina e quindi dobbiamo aprirla subito e dmanga dmanga al vent tant o quant al pesa cioè vale quanto vale quanto pesa che direi riferito a me sì quindi vale molto oggi mi do del valore leonardo abbiamo deciso stamattina mi sono svegliato un po così ho detto oggi è venuto il momento di darci del valore poi hai letto e ho letto il team bot e ho detto giusto al vel tantor quanto al pesa al pesa senti leonardone cosa facciamo dunque sono giorni di memorie memorie perché sono gli 80 anni di fatti belli e fatti tragici e belli e tragici insieme perché oggi sono gli 80 anni della liberazione di firenze quindi fatto bello ma ad esempio domani sono gli 80 anni della strage di sant'ana di stazema che trovate tra l'altro sull'almanaco ecco a proposito di firenze insorge la linea gotica 1944 ci sono tanti posti che ricordano nella città di firenze questo momento ad esempio il sacrario allo stadio franchi dedicato ai renitenti alla leva fucilati dai fascisti oppure sul fianco di palazzo vecchio su via de gondi una lapide con le parole di piero calamandrei dall 11 agosto 1944 non donata ma riconquistata a prezzo di rovine di torture di sangue la libertà sola la ministra di giustizia sociale per insurrezione di popolo per vittoria degli eserciti alleati in questo palazzo dei padri più alto sulle macerie dei ponti ha ripreso stanza nei secoli mai dimenticare e oggi potete cambiare canale perché la libertà vale tutto al manaco di bellezza a cura di piero maranghi e leonardo piccinini con lucia simioni stefano pupini jacopo milardotti paolo faroni riccardo cassani greta torresi samanta chiodini realizzato da amerigo da veri valentino pupini luigi consolandi stefania margheritti alessandro pupini prodotto da piero maranghi una produzione classica hd sky canale 136 in collaborazione con intesa san paolo